Il liceo classico La Farina è sotto assedio, almeno così recita lo slogan fuori dall'ingresso dell'istituto superiore. Da ieri mattina 370 ragazzi su 590 che lo frequentano si schierano con patti a favore della buona scuola e hanno deciso di mettere su un'occupazione in piena regola che si preannuncia ad oltranza. Non spendere fondi pubblici per grandi opere come la TAV, riferiscono i leader dell'iniziativa, e impiegarli per l'edilizia scolastica o per assumere validi insegnanti dovrebbe essere l'obiettivo di un governo. A questo proposito l'ex provincia regionale non ha più un budget sufficiente per ripristinare gli edifici scolastici. I quattro rappresentanti di istituto hanno organizzato una gestione con i dovuti accorgimenti, quali il servizio pulizia e le attività di formazione che devono coprire le 24 ore, malgrado le lezioni siano interrotte. Si svolgono momenti di scrittura creativa e di rassegna stampa per dibattere proprio su argomenti molto sentiti di cronaca. A richiedere lo stato di presidio alla dirigente scolastica Pucci Prestipino sono sempre i quattro portavoce che sono stati raggiunti ugualmente ieri dalla Digos. Si tratta di una semplice identificazione, ci tengono a precisare, e non è avvenuta alcuna denuncia al nostro carico. Mali estremi, a problemi di estrema rilevanza, bisogna opporsi con una protesta, con una forma di protesta altrettanto estrema. Siete in occupazione da ieri, state qui giorno e notte, lezioni sospese, poi cos'altro? Noi siamo qui giorno e notte, io come rappresentante stiamo chiaramente 24 ore su 24. I ragazzi, chiaramente molti minorenni non hanno il permesso di pernottare qui, ma bene o male è un'occupazione molto partecipata. Ieri siete stati identificati dalla polizia. Siamo stati solamente identificati e non denunciati, quindi vogliamo smentire le notizie che si sono dati sui giornali oppure sui giornali online locali. Siamo stati soltanto indagati e finora non ci sono denunce.